Voi non potete capire com'era bella Provvidenza. Lì dietro c'era il Bargiolli, il nostro bar. È lì che l'ho incontrato per la prima volta. Maria diceva che a Provvidenza non sarebbe mai successo niente. Ci aveva torto. Sei tu! Dimmelo! Sei tu! Sta cercando di parlarmi. Una scienca, mia sorella. I morti stanno al cimitero. Hai capito? Ma io lo so benissimo che questo è tutto una cosa dentro la testa mia, ma è solamente immaginazione. Lo sai di che cosa hai bisogno tu? Di qualcuno con cui parlare? Con cui ridere? Fermi! Che avete visto una donna? Che ha visto chi? Che cazzo di... Io sento che c'è qualcosa di strano in Paese. Ed ecco a voi Elia, l'ultimo abitante di Provvidenza.